Ci sono volute oltre dieci ore ai vigili del fuoco per aver ragione delle fiamme e mettere in sicurezza l'intera area interessata dal devastante incendio che è divampato per causa ancora in fase di accertamento nei locali dell'azienda Fuligna Essensoli specializzati nella produzione di prefabbicati per arredamenti in via dell'industria a bottega di Vallefoglia nel Pesarese. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 2.30 e secondo i primi rilievi potrebbero essere partite da alcune scaffallature per poi estendersi al resto dello stabilimento di circa 10.000 metri quadrati. 18 unità sono state impegnate sul posto con 7 mezzi tra autoscale e diversi autobotti. L'ultima squadra dei vigili del fuoco è rientrata verso le 14.30 mentre sul luogo del rogo sono rimasti gli uomini del nucleo investigativo di Ancona arrivati sul posto e che ora dovranno fare chiarezza sugli aspetti di questo incendio che ha reso inagibile la struttura. Andata distrutta per una buona metà a seguito di un crollo strutturale della copertura e di un'arcata. Nell'incendio sono andate anche distrutte attrezzature, macchinari per la lavorazione, materiali vari o già lavorati e pronti per il mercato. Nessuna persona però risulta coinvolta né ferita nel rogo. Sul posto anche i carabinieri di Pesaro che hanno avviato un'indagine e anche i tecnici di Asur e Arpam. In forma precauzionale durante la mattinata il sindaco di Vallefoglia, Ucchielli, ha emesso un'ordinanza contingibile ed urgente di chiusura di porte e finestre per qualsiasi altra apertura delle abitazioni, delle frazioni di bottega, montecchio e zone circostanti in attesa che i tecnici sul campo facessero le dovute verifiche ambientali.